E' in Gandiere la consulta della cultura, che cos'è e quali sono i suoi obiettivi? Allora, la consulta della cultura è un organo consultivo che può affiancare l'amministrazione comunale nel proporre, ideare, progettare, valutare problematiche, ipotizzare possibili soluzioni affiancando il lavoro dell'amministrazione comunale. E' caratterizzata da dieci componenti che faranno richiesta in base alla domanda e quindi all'ordine di priorità della presentazione della stessa e l'avviso e la stessa domanda sono state inserite da oggi sul sito del Comune. Chi potrà far parte di questa consulta? Potranno far parte di questa consulta tutte quelle che sono le associazioni, i cittadini, gli enti, i movimenti che collaborano e operano nel settore. Entro quanto tempo deve essere consegnata la richiesta? Entro il 20 aprile farà fede il numero di protocollo e la data. Quali potrebbero essere gli obiettivi da raggiungere con la consulta della cultura? Innanzitutto il primo obiettivo è quello appunto di coinvolgere tutte le persone di cultura, le associazioni, i movimenti che si adoperano già nel territorio in quella che è la costruzione di una porta Empedocla come città di cultura, una città che legge, che ha profondissime tradizioni storico-letterarie. È una rivalutazione di queste tradizioni con uno slancio verso il futuro, verso un futuro in cui noi vediamo la cultura come uno dei punti di riferimento essenziali del patrimonio degli Empedoclini. E in questo vogliamo appunto coinvolgere gli stessi Empedoclini perché noi siamo per la partecipazione di tutti. Le consulte non hanno come altra finalità che quella appunto di rendere protagonisti gli stessi cittadini di quello che è lo sviluppo del territorio. Noi stiamo cercando di attivare tutte le consulte che ci è consentito dal regolamento e prevediamo di attivarne altre. Abbiamo già attivato quella dello sport, ora quello della cultura, poi in prossima costituzione quella dei giovani. Vedremo via via quale attivare. Evidentemente facciamo un appello a tutta la città, tutte appunto le associazioni, le persone di cultura a che veramente diano il loro contributo. Perché Porto Empedocle non è di un'amministrazione, Porto Empedocle è dei suoi cittadini e merita il giusto rilancio. La cultura poi per noi è un bene essenziale perché eleva l'uomo, lo rende davvero nobile, lo emancipa anche dalle sue passioni, dalla brutalità, dalla violenza che a volte alberga negli istinti e quindi è un bene in sé. Grazie. 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 Grazie.